Se per un lungo periodo la chiesa del vostro paese è stata oppressa da regimi fondati su ideologie contrarie alla dignità e alla libertà umana, oggi dovete confrontarvi con altre insidie quali ad esempio il secolarismo e il relativismo. È la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto ai viscovi della Lituania a Roma per la loro visita ad limina apostolorum. Tra le preoccupazioni del pontefice è anzitutto affiorata un'attenta pastorale familiare, così che i coniugi sentano la vicinanza della comunità cristiana e siano aiutati a non conformarsi alla mentalità di questo mondo ma a rinnovarsi continuamente nello spirito del Vangelo. Anche la Lituania, infatti entrata a pieno titolo nell'Unione Europea, è esposta all'influsso di ideologie che vorrebbero introdurre elementi di destabilizzazione delle famiglie frutto di un mal compreso senso della libertà personale. Non meno importante, tra le indicazioni che Papa Bergoglio è rivolto ai presuli, una speciale attenzione per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, un'adeguata formazione, nonché l'educazione alla povertà evangelica e alla gestione dei beni materiali secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa.